Buonasera studentesse e studenti, in questa video-lezione ripassiamo e anticipiamo qualche argomento dell'unità 3 di latino. Unità 3, naturalmente il libro è grammatica picta e le pagine sono la 62 e la 63 e la 69 e la 70. Gli argomenti sono i sostantivi di seconda declinazione e gli aggettivi di prima classe. Sono argomenti che abbiamo già ampiamente introdotto. In particolare i nomi di seconda declinazione in us, maschili e femminili, e in um, cioè neutri. Per esempio, lupus, lupi, lupo, lupum, lupe, lupo. Singolare. Lupi, luporum, lupis, lupos, lupi, lupis. Questa è la declinazione, la seconda declinazione dei sostantivi maschili, in questo caso lupus è maschile e femminili, in us. Che cosa abbiamo detto? Non abbiamo detto molto, abbiamo semplicemente fatto qualche osservazione. Abbiamo detto, per esempio, che l'uscita del dativo singolare e dell'ablativo singolare sono uguali, così come quelle del nominativo e del vocativo plurale, e anche quelle del dativo e dell'ablativo singolare. Poi abbiamo detto, abbiamo individuato la M finale come l'elemento proprio dell'accusativo singolare, e abbiamo detto anche che invece la S è l'elemento proprio dell'accusativo plurale. naturalmente poi abbiamo anche visto che RUM, preceduto questa volta da O e non da A, è un elemento che si ha anche nella prima declinazione. Dunque, a questo riguardo abbiamo detto che dobbiamo fare molta attenzione, perché per esempio la I può riguardare addirittura tre casi, la O due casi. La IS può riguardare non solo un sostantivo di seconda, ma se vi ricordate anche un sostantivo di prima. Dunque, che cosa ripetiamo quello che abbiamo detto a questo riguardo? Quello che abbiamo detto è molto semplice. Attenzione, se si trova la parola singola si possono avere dei dubbi, e a quel punto i dubbi vanno chiariti sul dizionario. Per prove ed errori, nel senso che provo a cercare come sostantivo di prima, e se non è un sostantivo di prima sarà un sostantivo di seconda, per ora. E poi naturalmente c'è l'esperienza, per cui se trovo lupis o se trovo lupos so che è un sostantivo di seconda. Benissimo. Altro discorso è quando invece trovo la parola in un contesto, cioè in una frase. A quel punto avrò tutti gli elementi per andare a capire che tipo di sostantivo sia, a che declinazione appartenga. Attenzione che però un margine di errore rimane sempre, e allora rimane valido quello che ci siamo detti. Cautela e ricerca mirata sul dizionario. Questo dunque per quanto riguarda i sostantivi maschili e femminili. Poi ci sono i sostantivi neutri. Eccoci, e questo è il neutro. Per quanto riguarda il neutro abbiamo visto che le cose si semplificano. Si semplificano perché sia al singolare che al plurale i cosiddetti casi retti, vale a dire nominativo, accusativo e vocativo, sono uguali. A questo punto naturalmente l'osservazione è sempre la stessa. Come faccio a sapere se è un nominativo, un accusativo, un vocativo? Così, a parola singola non posso dirlo, dal contesto della frase naturalmente, il contesto della frase naturalmente mi chiarirà tutto. Per il resto le uscite dei casi sono quelle del maschile e del femminile, dunque non devo fare una fatica in più. Questo per quanto riguarda i sostantivi di seconda, uscite che escono in us, maschile e femminili, e in um, neutri. Adesso facciamo un piccolissimo salto e andiamo a pagina 69, perché abbiamo visto che una piccola difficoltà di questa declinazione è che per quanto riguarda il nominativo ci sono almeno due esiti, perché è di seconda anche questo sostantivo. Benissimo. E questo. Benissimo. Anche questo è di seconda. Naturalmente vedete che l'esito, la desinenza del nominativo singolare è diversa, non è in us. Benissimo. E ulteriore difficoltà per quanto riguarda questo secondo, questo secondo sostantivo, ci può essere anche una lieve modifica della radice, per cui ho puer pueri, ma non ho faber faberi, ho faber fabri. Benissimo. Poi però notiamo che le altre desinenze sono uguali a quelle già studiate, dunque non dovete fare fatico ulteriore. Poniamo che io abbia puerum, o poniamo che io abbia fabrum. Come faccio ad andare a cercare sul dizionario il nominativo? Giusto? Se può essere, in teoria, puerus e puer e faberus come faber. Quello che vi ho detto prima. Vado per esclusione e laddove non trovo evidentemente mi oriento sulla seconda opzione. E vale altrettanto quello che ho detto prima. A forza di studiare, a forza di esercitarsi, puerum sarà, al di là di ogni ragionevole dubbio, da puer. Così come fabrum sarà, al di là di ogni ragionevole dubbio, da faber. Per cui ricerca puntuale e precisa sul dizionario e altre tre cose. Esercizio, esercizio ed esercizio. Questo per quanto riguarda i sostantivi di seconda. Ce n'è un altro, molto importante, che questa volta è, diciamo, una sottocategoria dell'ultima che abbiamo trattato, ed è questa. Vir, viri, è l'uomo. L'uomo, inteso, uomo maschio, da cui anche un'altra cosa. marito, soldato, eroe. Benissimo. È una sottocategoria perché, come vedete, prima della R non c'è la E, ma c'è la I. Ma è una sottocategoria di quello che abbiamo detto prima. Attenzione, attenzione, studiatelo bene perché rischiate di confonderlo poi con un nome di terza. Per cui studiatelo, mi raccomando, bene. Benissimo. Poi abbiamo detto, passiamo all'altro argomento di quest'unità, che sono gli aggettivi di prima classe. Gli aggettivi di prima classe, se guardate la tabella pagina 63, sono strutturati come segue. Intanto un aggettivo deve concordare per caso, genere e numero con il sostantivo o il pronome a cui si riferisce. Dunque, se ci sono tre generi, maschile, femminile e neutro, dovrà avere tre generi. Per cui dovrà avere il maschile, il femminile e neutro. Gli aggettivi di prima classe sono strutturati così. Per quanto riguarda il maschile e il neutro seguono la seconda declinazione. Per quanto riguarda il femminile seguono la prima declinazione. Per cui, per esempio, esempio che vi porta il libro, c'è fidus, fida, fidum. E il genitivo sarà fidi, seconda declinazione, fide, prima declinazione, fidi. E così via, per tutti i casi. Come, per quanto riguarda i sostantivi, sul dizionario cerco il nominativo e il genitivo singolare, o plurale se si tratta di pluralia tantum. Allo stesso modo, per quanto riguarda gli aggettivi, cerco i tre nominativi. Questo è come si cerca sul dizionario e come si parla di questi aggettivi. Per cui facciamo finta che io abbia fidum. Fidum può essere l'accusativo maschile singolare o il nominativo accusativo vocativo singolare da fidus, fida, fidum. Per cui ricordatevi, quando si parla dei sostantivi, si cita sempre il nominativo e il genitivo singolare. Quando si parla degli aggettivi, si citano i tre nominativi. Molto bene. Ricordiamoci però che la seconda declinazione possiede due nominativi, uno in us e uno in per quanto riguarda i maschili. E infatti, se andate a pagina 70, vedete che io posso trovare anche questo tipo di aggettivo pulcher, pulcra, pulcrum. Eccoci qua. E non varia niente rispetto a quello che vi avevo detto, cioè maschile seconda, femminile prima, neutro seconda. Che cos'è che varia? varia il maschile perché invece di avere l'uscita in us ce l'ha in er. Così come asper, aspera, asperum. Invece di avere l'uscita in us ce l'ha in er e proprio come in puer, proprio come in puer, mantiene la e. E concludiamo facendo quest'osservazione. Anzi, non concludiamo, quasi concludiamo facendo quest'osservazione. Ma come faccio a sapere se è pulcher o pulcrums, asper o asperus? Confrontate quello che ho detto prima. Ricerca oculata sul dizionario e esercizio. Ultima aggiunta. Ultima aggiunta. Come si formano gli avverbi? Gli avverbi si formano prendendo l'aggettivo, la radice dell'aggettivo e aggiungendo una e. Dunque, fidus fida fidum fedele, fedelmente fide. Asper, aspera, asperum, aspro, difficile e asper più e, aspramente, difficilmente.